Siamo con Alessandro Parisi, socio fondatore del Lido il Pirata Calcio a 5, all'indomani della bellissima vittoria nella finale playoff di Serie D contro la nuova Florida, risultato finale di 5 a 3, che ha sancito con ogni probabilità, primissimi nella graduatoria di ripescaggio, il passaggio, ci si aspetta da parte di tutti, del Lido il Pirata Sperlonga in Serie C2. Alessandro, una stagione lunghissima, iniziata teoricamente ad ottobre, ma per voi molto prima, già da lui avete gettato le basi per questo progetto e poi addirittura alla finale il 17 giugno, quindi quasi un anno pieno di lavoro, faccio un po' un escursus su questa lunghissima stagione, anche un po' di dietro le quinte. Certo, io, Michele e Toni siamo amici innanzitutto, prima che soci abbiamo deciso di iniziare questa avventura soprattutto per passione e per divertimento. A luglio, sì, ci siamo mossi un po' in ritardo perché abbiamo avuto delle difficoltà nel creare tutta la situazione, però ecco, la stagione che è stata molto lunga e molto complicata e sofferto, ieri si è conclusa nel migliore dei modi e ti dico la verità, noi ci eravamo prefissati come obiettivo, almeno in due anni, di poter salire in C2, soprattutto perché il primo anno noi come società inesperta, perché comunque siamo al primo anno, alla prima esperienza in questa competizione, volevamo innanzitutto crescere, migliorare e cercare anche di capire questo calcio a 5 che noi comunque non abbiamo mai, se non praticato come tornei estivi, mai fatto, quindi volevamo innanzitutto capire la situazione. Ovviamente esserci riusciti al primo anno, questo è un motivo di orgoglio. Ecco, avete avuto in questa stagione tanti uomini chiave, dal capitano Passanate che purtroppo per infortunio non ha giocato in finale, fino ad arrivare ai nuovi arrivi nel calcio a 5 di Marrone, che però era un giocatore già molto conosciuto alla platea del Sud Pontino per quanto riguarda il calcio a 11, ma anche di altri giocatori che altrove non si erano espressi così come sono riusciti a fare con voi, su tutti io direi Orsi Cepa, davvero soprattutto il girone di ritorno un valore aggiunto per la vostra squadra. Ecco, so che è bruttissimo fare un nome, magari non me lo farai, però dimmi un giocatore se riesco a strappartelo che in particolare ti ha sorpreso. Allora, noi abbiamo deciso innanzitutto di formare un gruppo. Noi abbiamo cercato in tutti i modi, prima di prendere dei giocatori, di prendere dei uomini, delle persone serie, perché in questa società non possono far parte persone che non hanno la testa sulle spalle, che non si assumono le proprie responsabilità. Noi abbiamo puntato principalmente sulla serietà, sulla professionalità della persona, perché la mia esperienza da giocatore mi insegna che solo con giocatori forti non puoi ottenere risultati. Quindi la nostra prima grandissima vittoria è stata innanzitutto riuscire a formare un gruppo di persone serie che hanno preso l'impegno e l'hanno mantenuto fino a ieri. E io di questo li ringrazio tutti. Poi, se poi potevo fare un nome, io personalmente sono innamorato calcisticamente di Alejandro Marrone, anche perché l'ho portato io e ne ero già un grande stimatore prima come calciatore puro di Calcio 11. Quindi nulla a togliere a tutti quanti altri giocatori che sono bravissimi sotto tutti i punti di vista. Io per Marrone ho una piccola simpatia. Poi ovviamente vorrei ringraziare in particolar modo l'artefice di questa cavalcata, che è Fabio Padula, mister che comunque è stato cercato in primis solo ed esclusivamente lui un anno fa. Lui è accettato con grande passione, con grande serietà e noi come società lo ringraziamo. Anche perché partire dal nulla con una società che non è mai esistita e creare tutto da zero non è facile. Lui c'è riuscito anche insieme all'aiuto della società, di giocatori comunque seri e preparati, ha formato un gruppo, poi comunque l'ha portato avanti per tutta la stagione, è andato un gioco, un'anima e ieri la ciliegina sulla torta ha vinto anche la finale. Quindi io di questo lo ringrazio. Poi un'altra persona che vorrei ringraziare, scusami se mi prolungo un po' i ringraziamenti, è Vincenzo Muccitelli, il papà di Paolo, che comunque a zero euro ci ha dato una mano per tutto l'anno per quanto riguarda macchine, palloni, disponibilità, presenza. E queste sono cose che comunque a noi come società fa piacere, perché non è facile trovare persone che ti possono aiutare comunque senza ricevere nulla in cambio. Io di questo lo ringrazio. Poi ti ripeto, ringrazio a nome di tutta la società, tutti i giocatori. Il capitano mi dispiace che si è fatto male. Purtroppo è stata un'assenza importantissima la sua, perché lui è un uomo spogliatoio, un uomo trascinatore. E poi vabbè, in mezzo al campo lo conosciamo tutti, non è che lo scopro io. Però ecco, di questo sono contento. Bene, in chiusura Alessandro, io non posso non farti una domanda su quello che sarà la stagione 2018-2019. Capisco che naturalmente adesso sono i giorni dei festeggiamenti, ed è giusto che sia così. Avete conquistato la finale dei play-off in questo momento che registriamo questa intervista, meno di 24 ore fa, quindi so che magari anche prematuro. Però, almeno in linea di massima, una piccola idea, un piccolo progetto di quello che potrà essere la prossima stagione. Non so se puoi darcelo. Guarda, come hai ben detto tu, ieri è finita la stagione ufficialmente, quindi almeno per una settimana ci godiamo questo riposo e soprattutto questa vittoria. Per quanto riguarda le decisioni future, tecniche, non so dirti nulla. Io l'unica cosa che ti posso garantire è che il vicepresidente Tony Catalano verrà sicuramente cacciato. A parte gli scherzi, no, non lo so. Sicuramente ci sederemo a tavolino tra una settimana e cerchiamo di fare il punto della situazione per quanto riguarda il futuro. Va bene, non sono riuscito a strapparti niente di particolare, ma me l'aspettavo. Ti ringrazio comunque per questa bella, lunga e doverosa intervista dopo una vittoria così importante e avremo sicuramente modo di risentirci durante l'estate. Buone vacanze e buoni festeggiamenti. Sì, vi ringrazio per averci comunque seguito per tutto l'anno. Ci avete portato, tra virgolette, fortuna. Speriamo ecco di proseguire in futuro anche questa collaborazione con voi. Grazie a voi e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie mille e ringraziamo Alessandro Parisi.